Ormai è qualche anno che seguo questo metodo e piano piano senza rendertene conto la differenza la senti, te ne accorgi quando suoni e se pensi magari a un pezzo come l'avresti fatto tempo addietro ti viene quasi da ridere e soprattutto vedi la differenza quando ti erano in contesti nuovi, magari generi nuovi o improvvisazione, zoom session e devi capire al volo dove sei e fare qualcosa che ci stia assolutamente. Questi corsi fatti in questa maniera semplificano molto il tuo approccio finale che hai sulla musica su un pezzo quando vai a suonare perché lo svisceri dall'inizio cioè dai contenuti di base però sempre in maniera concreta, cioè applicando quello che fai a esempi reali che sia stare su un tempo, un tempo dispari, seguire un'armonia e capire appunto come carriaggiarsi sopra. Uno degli aspetti più importanti di questo metodo di studio sono l'universalità con cui si affronta il tema della musica cioè che si parli appunto del tempo, di armonia, di qualsiasi aspetto teorico vengono portati avanti a braccetto partendo dal livello base e andando sempre più avanti studiando sempre il colubio che c'è tra l'uno e l'altro quindi ti permette di avere una preparazione a 360 gradi.